Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi vi racconterò di come rendo più produttive le mie settimane. C'è stato un tempo in cui ero una perfetta disordinata. Non disordinata nella casa e nelle cose, sì ok anche quello, ma disordinata proprio nella gestione e nell'organizzazione della mia vita. Facevo tutto come capitava e mi ritrovavo inevitabilmente con una me che procrastinava giorno dopo giorno qualsiasi cosa. Una me che quindi ad un certo punto si ritrovava ad avere un mucchio di cose da fare tutte insieme che non potevano più essere rimandate. Una me perennemente stressata e con l'acqua alla vola. Nel momento in cui ho deciso che volevo mettere su la craft room, ma nello stesso tempo volevo continuare a fare il mio lavoro di insegnante di danza e ancora non volevo assolutamente dedicare ogni singola ora e ogni singolo giorno della mia vita al lavoro, ho capito che dovevo completamente stravolgere la mia vita e iniziare ad essere una persona un pochino più organizzata. Con il tempo ho scoperto che il segreto per affrontare al meglio ogni settimana è racchiuso nel weekend. Ed è per questo motivo che oggi vi racconterò quali sono le 6 cose che faccio nel weekend per rendere più produttive e meno stressate le mie settimane. E direi di partire subito, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. 1. Riordinare al meglio la casa Un ambiente caotico o peggio sporco non aiuta di certo ad essere più produttivi e questo diventa ancora più importante nel caso in cui, come me, si lavori da casa. Se durante la settimana non si può o non si vuole dedicare abbastanza tempo alle pulizie, è bene dedicare una parte del fine settimana a queste attività. Io di solito al sabato mattina, prima facevo il venerdì mattina, adesso per varie necessità ho spostato tutto al sabato, pulisco, riordino e metto le lavatrici, mentre invece la domenica pomeriggio o sera sul tardi mi dedico a stirare. In queste attività di riordino del fine settimana includo anche la dispensa, provvedo a fare pulizia, ad eliminare eventuali cose che sono scadute o andate a male e faccio spazio. Questo passaggio è fondamentale prima di passare al punto 2. 2. Pianificare i menu e fare la lista della spesa Per avere una settimana un pochino più leggera, pianificare i menu è sicuramente un'ottima attività. Io organizzo i menu, come credo ben sappiate, sulla mia agenda il mio benessere e poi con la dispensa bella pulita ed in ordine riesco ad andare a vedere cosa ho e cosa mi serve, Faccio la lista della spesa e poi posso andare al supermercato, anche se questa è una cosa che di solito faccio al martedì, ma comunque preparo tutto nel fine settimana. Due piccole specifiche. Io, vivendo da sola, di solito non faccio grandi spese e quindi, ma da sé che quando faccio la pulizia della dispensa mi resta davvero ben poco. Andare a fare la spesa con la lista precisa di quello che si deve comprare aiuta sia a risparmiare tempo, ad essere più veloci, sia, molto importante, ad evitare di comprare cose che non si dovrebbero comprare. Vedi alla voce schifezze varie. 3. Pianificare le spese. Questa è un'abitudine che ho preso piuttosto recentemente, cioè quando durante la pandemia mi sono ritrovata a non avere più nessuna entrata mensile fissa o più o meno tale. In quel periodo mi si è reso necessario organizzare minuziosamente ogni singola spesa e farlo settimanalmente. Ogni settimana avevo delle piccole entrate dalle cose che vendevo dell'allora hobbistica craft room e quindi a fine settimana sapevo quanto più o meno potevo spendere durante la settimana seguente. In questo modo si risparmiava molto e soprattutto si evitava di fare acquisti compulsivi. Quindi questa è stata un'abitudine che ad oggi tengo ancora molto volentieri. Numero 4. Pianificare gli impegni per la settimana. A questo punto posso sedermi con la mia agenda e iniziare a delineare le linee generali di quelli che saranno gli impegni per la settimana. Non mi addentrerò nello specifico su questo punto perché ho intenzione di fare prossimamente un video dedicato. Vi dico solo che faccio una ripartizione sommaria delle cose da fare tenendo conto delle cose che devo fare necessariamente in uno specifico giorno della settimana e di quelle cose che devo fare all'interno di quella settimana ma posso decidere di giorno in giorno di inserirle nella mia to do list per il giorno seguente. Aggiungo a questo che tengo conto anche della quantità di tempo che in ogni giornata voglio dedicare a me stessa, alle mie cose, ai miei hobby e alle mie attività personali. Attività numero 5. Dedicare un tempo maggiore alla cura della persona. Per quanto riguarda la cura della persona io durante la settimana faccio solo quello che è essenziale per tenermi pulita e in ordine. Faccio le docce velocemente. Quando faccio lo shampoo non dedico troppo tempo alla piega e ad esempio al mattino mi lavo semplicemente il viso. Non faccio una skin care particolare. Mi lavo e basta per fare l'esempio del viso. Nel fine settimana invece mi dedico con più cura alla cura appunto della mia persona. Le docce sono più lunghe e rilassanti. Faccio delle maschere, viso, capelli, cose così. Mi dedico a depilazioni varie, a eventuali massaggi e scrub. Faccio le unghie e faccio una piega un pochino più elaborata ai capelli. Coccolarmi nel fine settimana mi aiuta ad arrivare all'inizio della nuova con più energia ed anche con un po' di sicurezza in più. Numero 6. Dedicare tempo agli affetti. Durante il fine settimana la mia priorità sono i miei affetti. La domenica pranzo devo passarla con mamma. Il sabato sera e la domenica pomeriggio prima serata sono di Francesco. Anche perché durante la settimana, avendo stili di vita completamente diversi, il tempo da dedicare a noi stessi è davvero molto poco. Dedicarci alle persone che amiamo durante il fine settimana ci fa bene sicuramente allo spirito e ci dà anche modo di reggere meglio il fatto di non poter trascorrere più tempo con loro durante la settimana a causa del lavoro. Ed ora un piccolo bonus. Sembrerebbe scontato ma in realtà non lo è. Il fine settimana è necessario riposare. E di la verità, quante volte ti capita di arrivare alla domenica sera che ti senti stanco come se avessi lavorato il doppio del tempo rispetto a tutta la settimana? Con riposare ovviamente non intendo stare sul divano a non fare nulla, ma intendo proprio staccare la spina, fare le cose molto più lentamente e prendersi cura di se stessi, dedicarsi alle cose che piacciono fare maggiormente, ai propri hobby, a leggere un libro, a guardare una serie tv, un film. Prendere tutto con molta più calma insomma e perché no anche concederci quello sfizio alimentare che durante la settimana non ci concediamo. Di sicuro tutto ciò ci darà più energia per alzarci al lunedì e affrontare una settimana produttiva e poco stressante. Ora tocca a te. Cosa ne pensi di queste tips che ho condiviso oggi? Sei anche tu una persona che organizza le sue giornate, le sue settimane o come la mia amica Laura fai tutto come viene alla meno peggio? Fammi sapere, sono curiosa. Io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto e questa volta anche magari di esservi stata utile in qualche modo. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio. Ciao!